se tu in una giornata hai mezz'ora di tempo libero hai due opzioni o fare una camminata di 30 minuti che non ti serva niente opzione 2 fare una corsa di 30 minuti allora ti serve l'intensità di allenamento e la pigrizia fanno la differenza è solo un esempio è ma se tu in 30 minuti riesce a fare 5 km di corsa perché ne devi fare soltanto due camminando oppure per mezz'ora riesce a resistere allenamenti come tabata allenamenti allenamenti ad alta intensità e invece di fare questo va in palestra e fai due pesettini tanto per far qualcosa tempo libero per allenamento rimane lo stesso ma l'intensità aumenta ed è questo che fa la differenza hai poco tempo libero e allora non fare il pigro e allenati con intensità è molto più allenante correre rispetto a camminare è molto più allenante alzare dei pesi rispetto a fare dei pesettini intensità significa maggior sforzo maggior fatica e ovviamente maggiori risultati